La Guardia di Finanza ha denunciato alla Procura della Repubblica di Pesaro un autotrasportatore straniero per contrabbando di prodotti petroliferi e sequestrato 36.000 litri di gasolio per autotrazione unitalmente al mezzo utilizzato per il trasporto illecito. I militari della compagnia di Fano mercoledì 8 maggio assieme al personale della polizia stradale locale hanno controllato nei pressi dell'uscita del casello autostradale di Fano un'autocisterna contenente prodotti petroliferi condotta da un cittadino di nazionalità portoghese il quale all'atto del controllo ha sì esibito i documenti di accompagnamento previsti dalla legge per il trasporto di prodotti soggetti ad accisa ma i dati riportati erano incoerenti sia in relazione all'indicazione del luogo di prelevamento del gasolio sia in riferimento al mittente del carburante dalle indagini poi delle fiamme gialle è emerso che la società mittente con sede in campania aveva come oggetto sociale il commercio all'ingrosso sia di prodotti lattiero casearei che di carburante e soprattutto risultava aver cessato da tempo la propria attività a quel punto è stato effettuato il prelevamento di campioni per la successiva analisi qualitativa del prodotto per verificare l'eventuale illecita miscelazione e alterazione il conducente del mezzo è stato pertanto denunciato alla procura della repubblica di pesaro per i reati di contrabbando di gasolio per autotrazione e sottrazione al pagamento delle accise delitti per i quali sono previste la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa di importo pari a dieci volte il valore dell'imposta evasa quantificata quindi in euro 22.226 il sequestro probatorio è stato convalidato poi nella giornata successiva dalla competente autorità giudiziaria di pesaro